Forza Pizza! Scopri i nostri prodotti e le nostre specialità a Talzano Taranto, in corso Vittorio Emanuele 318, nelle vicinanze del Santuario Nostra Signora di Fatima. Pizza e non solo! Panzerotti, prodotti da forno e tante altre prelibatezze. Siamo abituati a soddisfare i palati più sopraffini. Ti accogliamo in un ambiente familiare, la genuinità è il nostro segreto. Ti aspettiamo, allora, per urlare insieme Forza Pizza! Saks Café è a Talzano Taranto, in corso Vittorio Emanuele 348, proprio di fronte al Santuario Nostra Signora di Fatima. L'angolo ideale per il tuo momento di relax, colazioni, aperitivi e tante altre specialità. Un posto esclusivo all'insegna della qualità e della convenienza. Ti aspettiamo! Polifemo intende valorizzare quelle iniziative che attengono alla religiosità popolare. Siamo infatti a Talzano, insieme ad una processione che si sta snodando per il centro storico della borgata Tarantina. Una processione che si ripete dal 1982 per ringraziare il Signore e Maria Vergine per lo scampato pericolo cui fu sottoposto Giovanni Paolo II in occasione dell'attentato. Evidentemente una mano divina fermò la mano di Alia Cia. Una manifestazione, una processione che vede partecipare la comunità talzanese in toto, l'amministrazione comunale e le amministrazioni di altri comuni. Giuseppe Semeraro, operatore culturale e organizzatore di eventi talzanese. Una partecipazione sentita, queste fiaccole, queste candele, esprimono tutto il sentimento popolare, l'affetto verso Giovanni Paolo II e la gratitudine per avervi salvato la vita. Quest'anno il santuario festeggia il sessantesimo della sua costituzione canonica, 1958, e Don Pasquale ha voluto coinvolgere i santuari più importanti della Puglia. C'è Erchie, c'è Carpignano Salentino che festeggia il quattrocento e cinquantesimo della devozione della madonna della grotta, il santuario della madonna dello spasimo di Laino Borghi con il parroco, ma anche altri parroco che hanno condiviso questo evento. È un momento di devozione, di promozione e di interscambio culturale. Talzano cresce intorno alla devozione mariana. Massimiliano Stellato, consigliere comunale di Taranto, in rappresentanza appunto del sindaco dell'amministrazione comunale con la fascia tricolore. Un momento di profonda religiosità. Sì, quando una parrocchia, quella di Talzano, riesce a coniugare il senso di comunità, a conferire nuovi valori, nuove identità e riesce a mettere a rete il sistema i principi religiosi con quelli istituzionali e con le tradizioni storiche e culturali, l'amministrazione comunale ha voluto far sentire la sua presenza. Grazie. Una religiosità popolare che travalica l'area ionica e abbiamo il sindaco di Erchie, Giuseppe Margheriti. Un po' di chilometri da quel di Erchie per vivere con la comunità talzanese questo momento profondo di religiosità. Sì, Erchie sicuramente non poteva restare insensibile all'invito che mi ha fatto Don Pasquale, Giuseppe Semeraro, l'organizzatore. Erchie dicevo prima che è nata grazie alla nascita del santuario. Erchie che sul gonfallone del comune, sulla fascia che indossa, riporta gli occhi di Santa Lucia, quindi una vera rappresentante di Erchie e Santa Lucia e il suo santuario. Quindi una festa per il santuario di Talsano non poteva sicuramente mancare Erchie, anche perché i talsanesi fanno parte di quegli pellegrinaggi che periodicamente nel periodo delle perdonanze si fanno anche ad Erchie. Uno, due pulma, tre pulma ogni domenica di Taranto e quindi anche di Talsano sono abituati visitatori del nostro santuario. Maria Angelina Russo in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Laino Borgo, provincia di Cosenza, lei è il vice sindaco. È bello vedere la partecipazione popolare ma anche le istituzioni, i rappresentanti appunto di vari comuni, non solo pugliesi, lei viene dalla Calabria, per rendere omaggio a questa grazia. Sì, sì, in effetti a noi ci accomuna con Talsano la devozione alla Madonna e anche noi abbiamo un santuario mariano che si trova appunto in località Cappelle all'Ainoborgo dove è meta diciamo di vari pellegrinaggi da parte di tanti devoti e per il nostro comune c'è una grandissima devozione. La fede unisce? La fede unisce, sì. Giorgio Fontana, assessore comunale di Carpignano, Salentina. Il Salento, l'area del Leccese, vuole appunto ringraziare Maria per questa grazia. Il Salento esprime tutta la sua fede e la sua religiosità. Grazie, buonasera e sono veramente contento di essere qui in questa serata sicuramente importante dal punto di vista culturale e religioso. Io porto la testimonianza del santuario mariano di Carpignano, Salentino che quest'anno compirà il 450esimo anniversario della prima apparizione della Madonna, della Vergine Santissima. Noi festeggiamo il 2 luglio la Madonna della Grotta e quindi con lo stesso spirito come ha detto anche presso il santuario avremo modo di poter raccogliere tutta la nostra comunità nel segno della fede e soprattutto delle tradizioni culturali e religiose. Aldo Luongo, sindaco di Cuccaro-Vetere, provincia di Salerno. C'è tutto il meridione in questa processione anche dalla Campania. Evidentemente il senso della fede è davvero forte e travolgente. Sicuramente è un momento importante questo che delle celebrazioni in onore della Madonna di Fatima qui al santuario di Talsano che noi condividiamo già da qualche anno perché abbiamo creato questo bel rapporto con la comunità di Talsano, con il parroco Don Pasquale che è stato anche al mio paese a portare le reliquie dei pastorelli di Giovanni Paolo II e dove tornerà in occasione della nostra festività patronale il 29 giugno San Pietro. Un momento importante, emozionante, un momento di fede molto intenso che riesce a mettere insieme anche le istituzioni di varie parti del meridione come diceva lei prima per la condivisione di questo momento molto forte. Un bel momento. Grazie.